Un po' mi vergogno in questo video, vabbè, tanto ne ho già dei nemici, uno più uno o meno. Buongiorno, sono Walter Rivetti e vi sto parlando con la dizione corretta. Sì, ciao, sono Walter, doppiatore, vabbè. Allora, il titolo del video, se non cambio idea, dovrà essere come scegliere un corso di dizione. Ho visto in giro dei corsi di dizione dove c'è gente che ti parla in questo modo per poterti insegnare la dizione corretta. Allora, fastidiosissimo. In questo momento ti sto parlando in maniera naturale, normale, ora, no, prima, spero che tu l'abbia sentita la differenza. E allora, se devi scegliere un insegnante di dizione, ma caspita, ma fatti due domande. Perché sta parlando in questo modo? Ora, ci sono due possibilità. Uno, allora, lo sta facendo apposta, magari sta leggendo un pezzo, o ti sta insegnando a riconoscere dei suoni che ancora non hai acquisito. Ti sta insegnando la O, ti sta insegnando la O, ti sta insegnando gli altri suoni fonetici, e allora devi riuscire a imparare. Oppure, devi riuscire a imparare. Quindi iperarticolando, rallentando, e ha un senso. Oppure, secondo, non la sa benissimo neppure lui o lei. E allora deve andare piano per poterti dire la dizione correttamente. Ora, se devi scegliere un corso di dizione, ma vai da chi la sa senza doverci pensare continuamente. Oltretutto, le regole della dizione si trovano ovunque, anche nei dizionari, nei vocabolari. Le fasi per imparare la dizione correttamente sono 1. Devi studiarla e impararla. 2. Devi riuscire a fare in modo che ciò che hai in testa, quindi i suoni, hai imparato le regole, perché di quello si tratta, devi passarlo da qui a qui, riuscire a parlare e a esprimere ciò che hai imparato. 3. Una volta che l'hai fatto in maniera conscia, quindi sto parlando e sto pensando a quello che dico, non ci penso più, diventa automatico. Poi un conto è se sto parlando con gli amici, posso buttare via, sbagliare, eccetera. Un altro conto è quando sono al microfono e devo parlare in maniera professionale, perché sono un attore, sono uno speaker, sono un doppiatore. Bene, questo era solo per dirti. Allora, dato che le regole della dizione le trovi dappertutto, anche sul mio sito, vai a vedere, www.rivettivalter.com, le trovi anche sul mio sito, vai a vedere, e sul mio sito c'è anche il modo per riuscire a impararle, però poi bisogna parlarle, bisogna parlare, fare in modo che diventi tutto automatico e naturale, ovviamente, mente, le regole della mente, chiuso. Scegli il corso di dizione più adatto a te, scegli il corso di dizione con l'insegnante che non sia almeno un robot. Ok? Questo è il mio consiglio, ci risentiamo al prossimo video. A presto, ciao!